Definiti gli assetti della coalizione di centrodestra che appoggerà Caldoro, si tratta ora di far capire ai campani qual è la ricetta che chi appoggia il governatore uscente vuole portare avanti. E se posso riassumerla direi che è una ricetta che dà continuità al risanamento che Caldoro ha dovuto portare avanti in questa regione, che era stata letteralmente distrutta dalle politiche del centrosinistra, voglio ricordare l'emergenza rifiuti, il debito della sanità più alto d'Europa, un voto a Fratelli d'Italia significa però uscire da queste politiche di rigore perché adesso dobbiamo mettere in campo azioni e risorse per lo sviluppo locale. La campagna sarà l'unica regione d'Italia che vedrà unito il centrodestra. Resta al momento solo un nodo da sciogliere, se cioè l'area popolare sarà presente con una o due liste, cioè con quelle di Udc e il nuovo centrodestra. Un'unità che ha un solo artefice per il segretario regionale di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale Antonio Iannone. Va sicuramente ascritto alla capacità e alla leadership di Stefano Caldoro, alla responsabilità delle forze politiche che compongono la coalizione. Noi siamo sicuri che in questo modo ci si possa presentare in maniera coerente e credibile ai cittadini.